E allora vedete che io stasera mi devo vedere la partita che gioca l'Italia Vedi che tuo figlio sicuramente vuole completa la bandiera Dell'Italia? No, quella del Buronde Ma dove la devo andare a giocare la bandiera del Buronde? E' un modo di dire, vuole la bandiera dell'Italia, no del Buronde Come a dire gioca l'Italia, chi vuole la bandiera del Buronde? L'ho capito, ma tu forse non hai capito che è difficile giocare l'Italia la bandiera del Buronde Ma chi ci sei per l'Italia la bandiera del Buronde? A te! Signore, prendetelo che voglio suonare questa trombetta e fecceggiare Certo, mi dispiace Ma che cosa? Qua alla televisione hanno detto che un giocatore non può più giocare perché si è stirato il polpaccio Meschino, si sarà bruciato Ma pure lui che si stirà il polpaccio, dico, che fa? Non se lo poteva tenere sguaccetto Signore, io non lo so quello che è successo Quando me sono sposata sembrava buono Il cervello pareva sano Poi appena si è messa la fede Divento cretino, divento Lo stiramento del polpaccio è un eccessivo allungamento delle fibre muscolari, quindi le fibre muscolari restano intatte Ma che ha preso il suo bambino? Ma che abbiamo il dottore in famiglia noi? Ma che ne so, io mi cuore il suo cuoco E infatti, ma dico, perché non ti guardi delle tappe? Io mi guardo gli armi, dici in prima linea Eh, Luciano Under, vatti a lavare le mani che fra poco se mangi ce la fai te Lavarsi le mani, i germi sono ovunque e si spostano da un punto all'altro utilizzando l'acqua, gli oggetti Ehi, bacia, amica è passante, appena ti trovo che ti stai guardando in televisione sti programmi di scienza ti metto in punizione Ti devi guardare i tuoi programmi educativi, ti devi vedere Tempestion Island Ma io mi guardo Alberto Angela Eh, senti, vedi che ti tolgo il cellulare, ti devi vedere a te la cipollare e Gianni Sperti E pure Gemma, da un uomo nel dono Allora, Gioia, stasera c'è la partita dell'Italia, che cosa vuoi comprata? La bandiera o il cappellino? Io voglio la bandiera Perfetto, te la vado a comprare Ma è la bandiera dell'Italia? Quando faccio i domande cretini ha preso da sua parte Allora, Gioia, l'Italia gioca stasera, no? Quella che c'è nei balconi che è qua col vento diciamo... Mamma mia, ti esprimi come un libro chiuso al contrario, manco pare italiano, ma come ti devi capire tuo figlio? Allora, stasera c'è la partita Di calcio? No, di briscola in 5 Signore, prenda, ma tu a me, mi manda un messaggio su Messenger E me dici dove devo venire Aspetta, allora, Gioia, che fanno? Non lo sai? Che stasera gioca la nazionale? Fallo appassionare al calcio, che magari è migliore Si La nazionale, Gioia, la nazione, no? Noi abbiamo la bandiera dell'Italia perché defiamo... La nazione Si, la nazione Ma nel calcio chi è che rappresenta la nazione? Mattarella Mattarella Si, ma Mattarella non gioca a calcio, noi defiamo... Mattarella Signore, in una prossima vita fammi nascere camomella, cos' ogni cosa che vedo e che sento, signor Rilassante Gioia, se stasera segna l'Italia, tu che fai? Niente Come niente? Tu devi essere felice perché ha segnato? Mattarella Non gioca a calcio Mattarella, ma come ce l'hai detto? Gioca a chiesa, vabbè, se dovesse segnare a chiesa, tu che cosa canti? Oh, sanna è, oh, sanna è Si, poi ci scambiamo un segno di pace e accendiamo l'incenzo Dai, vai, segna, vai Ma che cosa è successo? Mi devo vedere la Turandò Ma chi è il sudottore? La Turandò, l'opera di Giacomo Puccini, la fanno stasera in televisione Ma come? C'è la partita, c'è? Calcio d'angolo La Turandò La Turandò Si sente c'è la partita, è capito? A tuo tutto lo vedi un'altra volta Goal, esulta Esulta, vai, esulta Ti ha segnato Mattarella? Si, di te si ha segnato Non ti dico niente, ma tu lo sai Dammi una gioia che suona la trombetta Ne hai fottuto